Pesca Sport Fratelli Lucchetta, la professionalità e la cortesia che fanno la differenza. A pochi passi dal mare e dal fiume Sile, Pesca Sport è specializzato in esche sia da acqua salata che da acqua dolce, offrendo anche un distributore di esche 24 ore su 24. Tutte le migliori marche per garantire sempre qualità ed affidabilità. Pesca Sport dei Fratelli Vasco e Samuele Lucchetta vi aspetta nel suo punto vendita in Piazza Kennedy 5 a Iesor, provincia di Venezia. Pesca Sport Fratelli Lucchetta, la pesca a 360 gradi.